Rientriamo in studio per la seconda parte del telegiornale. Derby di andata al Fertilia che ieri ha battuto l'Alghero per 4 a 2. Una vittoria meritata dai Giuliani che si prendono così i tre punti in palio. Amarezza nell'ambiente giallorosso soprattutto per la prestazione sotto tono. E' stato il Fertilia da giudicarsi il primo derby stagionale in campionato. La formazione, allenata da mister Massimiliano Paba, ha superato i cugini giallorossi per 4 a 2. Una partita che ha visto andare in vantaggio per prima la formazione di Massimo De Martis a segno con una bella punizione del solito Fabrizio Serra. Ma la verità è che la gara è stata giocata meglio dai canarini che nonostante lo svantaggio dall'inizio hanno approcciato meglio l'incontro. La rete giallorossa è stata siglata al 41esimo ma i Giuliani sono bastati solo tre minuti per riportarsi in parità. Un diagonale di Tedde sul quale Torepin nulla ha potuto. Nella ripresa l'Alghero scende in campo privo, di Serra uscito per infortunio. Il Fertili approfittando anche dell'atteggiamento quasi arrendevole degli algheresi ha poi dilagato raggiungendo addirittura il 4 a 1. Al sesto in gol Marco Puddu, poi Masala al dodicesimo e a chiudere ancora Matteo Tedde per la sua personale doppietta. Quando già le lancette scoccava nel novantesimo è stato l'esperto centrocampista algherese Josef Manzini a trovare la rete del 4 a 2 con uno splendido tiro dalla distanza. Soddisfazione in casa Fertilia per il risultato e prestazione, naturale invece l'amarezza nell'ambiente giallorosso. Dirigenti ieri in riunione dovrebbero rivedersi anche oggi per decidere se e quali cambiamenti siano da apportare. Un discorso che potrebbe non esulare la panchina. E l'amarezza per la sconfitta ma soprattutto per la prestazione di ieri dell'Alghero è tutta racchiusa nelle parole del neopresidente Lorenzoni che ha parlato anche di decisioni da prendere. Non sono escluse quindi novità nelle prossime ore. Presidente Lorenzoni, una nuova avventura per lei. Intanto parliamo di questo con l'Alghero. Due vittorie all'inizio del campionato e oggi lo stop nel derby. Sì, diciamo che abbiamo sei punti dopo tre partite e come non abbiamo esultato oltre misura quando abbiamo vinto le due partite non ci disperiamo dopo questa sconfitta. Ampiamente meritata, soprattutto meritata perché siamo entrati in campo in un certo modo abbastanza rilassati. Cosa che invece non doveva accadere perché nei derby solitamente si è sempre caricati. Nel secondo tempo invece non siamo entrati nel campo, siamo rimasti negli spogliatoi convinti che con quell'1-0 a fatti e quell'1-1 forse poteva essere abbastanza facile nel secondo tempo. Il Fertilio invece ha giocato molto bene, ben messo in campo, molto veloce. Una squadra sicuramente che si conoscono e quindi gioca un bel calcio. Io penso che possa andare molto avanti nel campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo bisogno di fare due o tre cose molto fondamentali, cambi fondamentali o quantomeno degli interventi notevoli. Ci riuniremo stasera con il gruppo di dirigenti e poi prenderò qualche decisione. Non tanto per la sconfitta quanto per il fatto che certe carenze e certe situazioni apparse oggi sono situazioni che vanno curate o quantomeno si deve intervenire in tempo utile e non in ritardo solo perché si vuole ancora provare. Quando si può constatare invece chiaramente dopo i 90 minuti di oggi che tanti difetti e tante carenze esistono e quindi bisogna correggerle. E adesso spazio agli allenatori. Partiamo con Mr. Massimiliano Paba che ha espresso molta soddisfazione per questa vittoria e per la prestazione dei suoi ragazzi. Mr. Massimiliano Paba, primo derby stagionale in casa dell'Algero vinto da voi per 4-2. Soddisfatto della prestazione del Fertilia? Sì, molto. Bella prestazione, caparbia, qualità e tanta quantità, molto soddisfatto. Si vede che comunque la squadra gioca bene, è una buona amalgama, si conoscono tra di loro e soprattutto non mollano mai anche perché sono andati in svantaggio e poi hanno raggiunto anche il risultato di 4-1, segno di grande carattere. Sì, ed è un po' quello dove volevamo lavorare, insomma, il carattere perché noi in questi anni, in queste ultime due stagioni abbiamo fatto molto bene dal punto di vista calcistico delle prestazioni. Siamo stati carenti molte volte in alcune situazioni, in alcuni periodi del campionato dal punto di vista caratteriale. E su questo stiamo lavorando e devo dire che oggi, insomma, abbiamo dato dimostrazione di carattere, di volontà e questa è una componente importantissima per noi. Domenica c'è stata una sorta di stop in campionato perché poi dopo la prima vittoria avete pareggiato. Cos'è mancato? Eh, è mancato qualche giocatore, è mancato un po' di fortuna anche, insomma, che è una componente importante nelle partite, nel calcio. Siamo stati un po' sfortunati in alcuni frangenti, avevamo qualche assenza importante e comunque, insomma, la squadra avversaria ci ha messo del suo, quindi ci sono sempre gli avversari in campo, non è che dobbiamo stravincere tutte le partite. Siamo una buona squadra, vogliamo toglierci delle soddisfazioni, partita per partita, senza programmare, senza fare voli pindarici, insomma, senza programmare al di là delle nostre potenzialità, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi siamo consapevoli che alcune partite si possono pareggiare, si possono anche perdere, insomma. Il mister dell'Alguero Massimo De Martis ha parlato invece della deludente prestazione dei suoi. Mister Massimo De Martis, non è una bella giornata, soprattutto quando si perde, si perde in un derby. Un 4-2 che brucia, ma forse l'Alguero doveva affrontare meglio questa partita. Sì, è una brutta giornata, una bruttissima giornata, non tanto per la sconfitta, la sconfitta ma a parte del calcio. E l'atteggiamento che abbiamo messo in campo va assolutamente eliminato, perché non c'eravamo proprio in tutti i sensi. Nonostante questo abbiamo avuto, non si sa come, la fortuna di andare in vantaggio, tra l'altro, ma neanche quello è riuscito a svegliarci. Eravamo proprio assenti. Primo tempo brutto, secondo tempo ancora più brutto. Bruttissimi segnali in tutti i sensi, complimenti a loro perché ci hanno veramente messo in difficoltà sotto tutti gli aspetti. E niente, da domani ricominceremo a lavorare. Il presidente è intervistato da noi poco fa, ha parlato comunque sicuramente delle cose da sistemare. Secondo De Martis che cosa ci sarebbe da sistemare, cosa manca? Per la partita che c'è stata oggi c'è da sistemare quasi tutto, però può essere che siamo incappati in una giornata molto storta. Mi piace pensarla in questa maniera. Da sistemare c'erano tante cose, ma lo sapevamo anche ieri prima di questa partita. Non è che è un caso, lo sappiamo che siamo una squadra ancora da completare, siamo una squadra che ha iniziato tardi, ma oggi non ci sono da trovare scuse. Quando perdi in questa maniera bisogna soltanto metterci la faccia e lavorare, basta, io non conosco nessun'altra strada. E prima di parlare del grande basket di Serie A, spazio anche oggi al tennis nel nostro telegiornale. Sentiamo nel servizio i risultati della seconda giornata del Sardinia Open che si sta svolgendo a Maria Pia. Inizia bene per Marianna Lauro la quattordicesima edizione del Sardinia Open ETF wheelchair tennis in corso di svolgimento sui camping green set del tennis club di Alghero. La tenista pluaghese, tredicesima dell'ETF, numero 4 del Siding, ha battuto 6-3-6-2 l'elvetica Gabriela Bueller, 63esima, e oggi giocherà contro la Svizzera Karin Sutererat, testa di serie numero 8 e 57 dell'ETF, che ha esordito regolando con un etto 6-3-6-0 Denise Boldi. Lauro ok anche in doppio, assieme alla tedesca Sabine Ellerbrock, con un periodico 6-0 alle israeliane Inna Maskovski e Veronica Zwick. Il tabellone maschile si è allineato ai quarti di finale con le otto teste di serie presenti e pronti a darsi battaglia per la vittoria. Esce l'ultimo azzurro in gara, Ivan Leon, sconfitto con un periodico 6-1 dal britannico David Philipson. Situazione speculare nel main draw femminile, con le otto teste di serie in lizza per i passi finali. Sorpresa invece negli ottavi di finale dei quad, dove cade la quarta testa di serie il tedesco Adrian Diehlmann, sconfitto 6-4-6-2 dall'israeliano Boaz Kramer. Doppio turno nel second draw, sono cinque gli italiani qualificati per i quarti di finale, con Silvio Culea, che ha eliminato 6-4-6-1, il numero uno del seeding, il tedesco Anthony Dittmar, Massimo Brischi, che ha superato 6-2-6-3, il numero quattro l'elvetico Nico Keller. Avanti anche la testa di serie numero 5 Andrea Sorrentini, Renzo Partel e Pier Giuseppe Vacca.